Io sono la vittoria di Dio. Io non nelle fattezze che voi vedete, ma nelle parole che io dico e nei concetti che affermo. Sfido tutta l'intelligenza del mondo a trovare un solo errore in quello che io dico e che porta alla assoluta vittoria di Dio. Voi sapete che c'è stato un filosofo che ha detto Dio è morto. Ebbene, io vi invito tutti a considerare le leggi che regolano la nostra esistenza elettromagnetica. La più importante legge è il terzo principio fondamentale, chiamato di azione e reazione. Noi vediamo ogni cosa in azione solo sulla base dell'azione esattamente uguale e contraria. Pertanto, se noi vediamo un mondo in cui apparentemente Dio non opera perché permette la morte degli innocenti, la vittoria apparente di ogni forma demoniaca dell'esistenza, voi state assistendo all'azione reale che è questa, che appare, come diceva il filosofo del nullismo, uguale alla morte di Dio, che invece è proprio il segno dell'onnipotente vittoria di Dio che sta annullando proprio tutto questo che voi vedete nella forma opposta corrispondente a suo apparente farsi. La verità è che Dio, ente che attira ogni cosa, centro magnetico che attira la gravitazione universale al suo punto centrale in cui riconfluendo tutto l'universo si annichilisce e rientra nella sua pura esistenza in potenza, mentre questo è veramente in atto, noi lo stiamo vedendo nelle forme uguali e contrarie, non attraverso la forma del magnetismo ma dalla elettricità che è l'entità opposta al magnetismo, non nelle forme dell'antimateria, ma in quelle della materia che dinamicamente è in contrapposizione all'antimateria. Di conseguenza, vedendo una verità attraverso le forme opposte, noi stiamo assistendo esattamente all'opposto del vero. Tutto sta rientrando nell'unicità di Dio, in quel punto geometrico, senza spazio, senza tempo, in cui ogni cosa esiste in potenza, ma la stiamo vedendo nel verso opposto, come se noi in ogni attimo della nostra vita da un punto potessimo scegliere liberamente quale punto della circonferenza poter raggiungere. Ma non essendo questa la vera azione perché è solo la reazione, essendo la vera azione solo il moto centripeto del magnetismo, quelle forme opposte affidate alla elettricità e alla materia che noi vediamo sono puramente la reazione tut cult alla onnipotenza di Dio. Quindi io, sfruttando proprio la ragione umana che ha portato all'affermazione del terzo principio di azione e reazione, ho sconfitto in assoluto tutti coloro che, come la Margherita Hach, dicono «Io non credo in Dio», sfido qualunque genio di questo tipo a confutare le verità che io dico. Avete udito delle verità che non sono mai state dette dopo che le disse per primo Gesù Cristo, quando a Nicodemo spiegò che la nostra esistenza ha due linee di azione, quelle dell'acqua e quelle dello Spirito Santo. Da allora ad oggi questa è la prima volta che la stessa verità trascendente di Dio arriva su questa terra e, usando proprio la ragione umana che ha portato alla conoscenza scientifica, abbatte in assoluto la ragione umana quando, espressa da una falsa filosofia, porta a credere che questo mondo non ha la presenza di Dio, mentre invece la verità è esattamente quella opposta. Già ora Dio sta svestendo ogni essenza reale del suo contenuto di essenza reale e la sta riportando alla sua pura esistenza in potenza che è quella di Dio. Dio ha vinto il mondo e oggi lo ha vinto qui al Parco Lura con la verità uscita da me. Se non siete capaci, uomini intelligenti, di capire quanto sia vero tutto quello che ho detto, allora, cari uomini intelligenti, nascondetevi!